Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo, diamoci dentro col video. Oggi affronto un caso che secondo me ha una certa rilevanza e, per consentire anche a voi di inquadrarlo al meglio, comincia subito col contestualizzare i fatti accaduti. Siamo negli anni Ottanta e ci troviamo a Los Angeles, in California. Al momento del ritrovamento, i corpi di tutte le vittime coinvolte in questo caso erano in condizioni devastanti e ignobili. L'artefice degli omicidi li aveva trattati con spietata ferocia. Alcuni cadaveri vennero trovati sotto dei materassi sporchi, altri erano nascosti dai ritagli di tessuti prelevati dalle moquette ed erano stati abbandonati principalmente nei vicoli. Infine, altri corpi privi di vita erano stati deposti all'interno di sacchi della spazzatura. Quasi tutte le vittime prescelte dall'assassino avevano problemi di dipendenza e lavoravano in strada come passeggiatrici. Fin troppo spesso questa categoria di donne incarna la preda che i serial selezionano e decidono di perseguitare. Sono infatti più vulnerabili o sole. Tornando all'ambientazione del caso, ci troviamo nello specifico nella zona di South Los Angeles che al tempo veniva chiamata South Central. Ma prima di scoprire come si sono svolti i fatti facciamo un balzo in avanti. È il 2001 quando il capo della polizia di Los Angeles, Bernard C. Parks, ordina che il dipartimento riapra e riesamini le prove di tutti i casi risolti di sua competenza. Il detective della sezione omicidi della polizia di Los Angeles, Cliff Shepard, riflette da tempo su tali casi. Ma fino a quel momento non esisteva un'apposita unità che potesse occuparsi delle indagini. Unità che viene creata proprio nel mese di novembre di quell'anno. Shepard ricorda benissimo una serie di omicidi che ancora lo ossessiona. Erano avvenuti tra il 1985 e il 1988. Tutte le vittime erano state uccise dai colpi di una pistola calibro 25. Erano state trovate senza vita sette donne, i loro corpi nascosti in alcuni vicoletti oscuri. Tutte avevano subito violenza e tutti i proiettili erano esplosi dalla medesima arma. Secondo il detective, il colpevole è un serial che bazzica ancora tra le strade di Los Angeles. Ma Shepard, negli archivi, non rinviene alcuna descrizione del sospettato. Così riparte da capo. Approfondisce ulteriormente tutti gli omicidi e le prove raccolte, a cominciare dal primo. Torniamo indietro nel tempo, quindi. È il 10 agosto 1985, quando in un vicolo nel quartiere Vermont Slauson di South Central viene ritrovata una donna sotto un materasso. Il suo corpo straziato è in stato di decomposizione avanzata. Sono trascorse alcuni giorni dall'omicidio. La donna è morta a causa di tre colpi di pistola inferti al petto e sparati da una calibro 25 automatica. Gli agenti sono in possesso dei proiettili estratti dal corpo, ma sulla scena del crimine non individuano alcun bossolo. Per questo ipotizzano che la donna sia stata uccisa altrove, oppure che il colpevole si sia preoccupato di raccogliere i bossoli proprio per non lasciare tracce. Riescono a identificare il cadavere grazie alle impronte digitali. La donna si chiamava Debra Ronette Jackson, aveva 29 anni ed era nata il 2 marzo del 1956 in Connecticut. Faceva la cameriera in un bar. L'ultima volta in cui era stata vista viva era qualche giorno prima, quando aveva lasciato l'appartamento dove viveva con le sue amiche, per dirigersi alla fermata dell'autobus, ma non aveva fatto più ritorno. Era scomparsa nel nulla. Suo figlio, Jeremy Jackson, si trovava anche lui in quella casa, quando la madre era uscita per prendere l'autobus. Racconta che dopo due giorni, non vedendola rientrare, si era convinto che le fosse accaduto qualcosa di strano, perché non era proprio da lei sparire improvvisamente senza dare notizie. Dopo qualche giorno, le sue amiche coinquiline si sforzano di trattenere le lacrime, perché, ahimè, Debra venne ritrovata, ma non in vita. Jeremy aveva 12 anni quando scoprì che la sua mamma non sarebbe più tornata a casa. Nel 2001, l'anno in cui, come detto, ripartono le indagini, la nuova unità che si dedica ai casi risolti confida tantissimo nel test del DNA. Si tratta di una nuova tecnologia, prima si utilizzava solo il test per l'individuazione del gruppo sanguigno, che non era molto specifico. Il DNA avrebbe dato un risultato che, specifico, lo era come la corrispondenza con il profino di una persona su miliardi, perché il patrimonio genetico di ogni individuo è personale e unico. Una volta prelevato un campione dalla vittima, la polizia deve procedere con le indagini a tappeto, confrontare il sangue, la saliva, il seme. Ma, con Debra Jackson, c'è un problema da affrontare. Quello della decomposizione avanzata. Purtroppo, la raccolta dei dati non va a buon fine. Torniamo, quindi, agli anni Ottanta. Il 12 agosto 1986 viene trovata la seconda vittima, di nuovo sotto un materasso e in un vicolo, nel quartiere di Hyde Park, a South Central, a pochi metri dal luogo di rinvenimento del corpo di Debra, la prima vittima. Il suo nome è Henrietta Wright. Era nata il 18 agosto del 1951 in Mississippi. Era stata aggredita intivamente prima di essere colpita dai proiettili di una pistola calibro .25. Anche in questo caso, però, la polizia non trova tracce organiche né individua dei testimoni. Dunque brancola nel buio, esattamente come all'epoca del primo omicidio. Proprio negli anni Ottanta, Los Angeles, in concomitanza con il verificarsi di questi omicidi, la violenza è all'ordine del giorno, a causa di una forte diffusione delle sostanze. La polizia prova a tracciare delle piste, ma queste si rivelano buchi nell'acqua. I cittadini, di conseguenza, si convincono che, se gli stessi omicidi fossero avvenuti in posti come Beverly Hills e se le vittime fossero state bianche, la polizia avrebbe messo a suo quadro l'intera città pur di risolvere il caso. In effetti, ahimè, lo sconfortante messaggio che la gente percepisce è che, in qualche modo, il valore della vita dipenda dal colore della pelle che si possiede. Ora ci proiettiamo nel 2002 quando Cliff Shepard, esaminando gli omicidi compiuti negli anni Ottanta, trova una registrazione del 10 gennaio del 1987 in cui un soggetto anonimo aveva chiamato la polizia per segnalare la presenza di un cadavere. Riferisce al centralino la sua esatta ubicazione. Il centralino, in risposta, gli chiede di ipotizzare da quanto tempo quel corpo si trovi lì. L'uomo risponde in questo modo. Da mezz'ora, credo. Lui le ha gettato addosso una tannica di benzina e di lei si vedono solo i piedi. Non ho visto quell'uomo in faccia. Poi continua. Il tizio l'ha gettata lì da un pulmino dodge azzurro e bianco. Infine, riporta a memoria una targa. Quando la centralinista gli chiede il suo nome, l'uomo risponde. Voglio restare anonimo. Conosco tanta gente, ok? Arrivederci. La polizia effettivamente trova il corpo nel quartiere Central Almeida di South Central. È posizionato sotto una tannica di benzina. alla donna avevano sparato al petto. Si chiamava Barbara Bethunguer. Era nata in California l'8 gennaio del 1964. La polizia analizza la scena del crimine in cerca di prove e in un vicolo non lontano dal luogo di rinvenimento del corpo rileva delle tracce di pneumatici. Da una ricerca emerge che il pulmino descritto durante la segnalazione è intestato a una chiesa che si trova a circa 3 km dal luogo del delitto. Quando gli agenti vi si recano trovano anche il pulmino. Rispecchia in pieno la descrizione del presunto testimone e il motore è ancora caldo. Alla polizia dunque non resta che scoprire chi l'abbia guidato. Quando gli agenti entrano in chiesa scorgono diversi fedeli ma sono due le persone che hanno accesso a quel pulmino e che vengono immediatamente interrogate. Tuttavia le analisi e i suoi residui di polvere da sparo non portano ad alcun risultato. Nessuno è in grado di fornire altre informazioni ed è escluso che i due interrogati siano coinvolti. Ciò nonostante il pulmino viene sequestrato. La scientifica non analizza e confronta i battistrada con le tracce di pneumatici rinvenute nel vicolo ma non combaciano. Nel pulmino inoltre non sono presenti tracce di sangue. Senza delle prove concrete il caso viene archiviato. Eccoci di nuovo nel 2002. Cliff Shepard analizza la segnalazione arrivata alla polizia il 10 gennaio 1987 avvalendosi dell'unità che si occupa dei casi risolti. L'impressione è che alcune cose riportate dal presunto testimone risultino false. Non c'erano lampioni in quel veicolo era buio pesto inoltre la targa del pulmino era leggibile solo a una distanza ravvicinata perché è semicoperta da una scala. Emerge il sospetto che l'autore della telefonata sia coinvolto nell'omicidio. Cliff Shepard ne è sempre più convinto d'altra parte non sarebbe la prima volta che un assassino chiama la polizia per sbeffeggiarla o depistarla. Dopo il delitto di Barbara Bethun Ware la polizia nota un filo conduttore che unisce le vittime e intuisce di avere a che fare con un serial. Così il dipartimento di polizia di Los Angeles istituisce una task force per indagare su questa serie di delitti senza però informare la comunità. Chiariamo di norma i detective cercano di non divulgare troppe informazioni sia per evitare disseminare il panico sia per impedire che l'assassino venga a sapere troppo cosa che renderebbe più ardua la sua cattura. Si mantiene il massimo riservo anche i familiari delle vittime sono all'oscuro degli ultimi sviluppi ammesso che ve ne siano. Il caso però si complica quando vengono consumati altri tre omicidi uno dopo l'altro. È il 16 aprile 1987 quando Bernita Rochelle Sparks viene ritrovata in un cassonetto in un vicolo vicino a Western Avenue nel quartiere di Gramsci Park ancora una volta a South Central. Anche lei aveva subito violenza ed era stata uccisa a colpi di pistola. era originaria della California nata il primo settembre 1960 l'ultima volta in cui era stata vista era il giorno prima il 15 aprile quando aveva lasciato la sua casa per comprare un pacchetto di sigarette in un negozio vicino. Il primo novembre 1987 viene trovato il corpo di Mary Catherine Lowy nello stesso vicolo del quartiere di Gramsci Park dove era stato ritrovato il corpo di Bernita l'aprile precedente. Mary era nata in Florida il 2 febbraio 1961 ed era stata vista l'ultima volta la sera prima ossia il 31 ottobre in un bar chiamato Love Trap. Secondo un testimone Mary era uscita dal bar e stava camminando verso una pinto di colore rosso o arancione. Il 30 gennaio 1988 nel quartiere di Westmont nella contea di Los Angeles in un vicolo viene ritrovato il cadavere di Larija Denise Jefferson nascosto sotto un materasso il suo viso era coperto da un tovagliolo con su scritta la parola IDS Larija era nata il 23 novembre 1965 proprio a Los Angeles dove aveva vissuto tutta la vita. Proiettandoci nel 2003 ritroviamo Cliff Shepard che constata come la polizia si è riuscita a raccogliere prove sulla violenza intima che ha comune i casi di Deborah Ware Mary Catherine Lowy e Bernita Rochelle Sparks vengono quindi analizzati i campioni prelevati dalle vittime per effettuare il test del DNA con la speranza di ottenere un profilo genetico che possa condurre all'assassino tutte le vittime erano state ritrovate nel raggio di 6 km in un quartiere a maggioranza afroamericana e probabilmente il colpevole era un uomo nero che viveva e lavorava in zona era convinto che nessuno avesse idea di chi fosse e che l'avrebbe sempre fatta franca in effetti dai campioni prelevati da Barbara Ware Mary Catherine Lowy e Bernita Rochelle Sparks emerge il DNA dello stesso uomo ma quel patrimonio genetico ahimè non risulta presente nei database in sostanza la polizia si ritrova con un indiziato non identificato torniamo al 6 settembre 1988 quando il padre di Alicia Monique Alexander rientra a casa sua figlia gli va incontro a 18 anni gli dice papà sto andando al negozio di alimentari ti serve qualcosa per caso suo padre le risponde no non mi serve niente voglio solo che dopo torni dritta a casa ok Alicia annuisce dicendo sì sì papà vado all'alimentari e torno subito a casa non preoccuparti Alicia però non vi fa più ritorno suo padre impreda l'ansia spera che lei lo chiami spera di vederla entrare dalla porta di casa sana e salva ma le ore passano è ormai tardi così sia suo padre sia suo fratello si allarmano l'11 settembre dei ragazzini scorgono un piede che spunta da sotto un materasso nel quartiere di Vermont Square a South Central chiamano la polizia chiaramente il cadavere doveva essere lì già da qualche giorno dato lo stato di decomposizione è impossibile identificarlo dunque la polizia ricorre alle impronte digitali la donna aveva subito violenza intima e anche lei era stata uccisa tramite dei colpi di arma da fuoco nel caso di Alicia però c'è un testimone ha visto la ragazza uscire da un negozio di liquori e salire su un'auto secondo il testimone l'auto in questione è arancione ma non ha nulla da riferire sul guidatore non è riuscito a vederlo il detective a questo punto ipotizza che l'assassino sia proprio il guidatore sedeva il volante e aveva toccato la vittima con la canna della pistola questo spiegava anche l'assenza di bossoli sulle scene del crimine i bossoli cadevano e dunque arrestavano tutti quanti nell'auto il serial uccideva tutte le sue vittime in macchina e poi scaricava i corpi nei vicoli studiando gli appunti presi dai detective degli anni 80 Cliff Shepard scopre che c'è addirittura una donna sopravvissuta a un'aggressione aveva riferito agli agenti che il suo assalitore guidava una Ford pinto arancione era il 20 novembre del 1988 quando Enietra Washington aveva affrontato l'assassino ed era sopravvissuta quella sera Enietra stava andando a casa di una sua amica insieme sarebbero dovute andare a una festa mentre avanzava davanti a un negozio di liquori aveva notato una Ford pinto arancione e si era fermata perché colpita da quel modello di macchina che le piaceva parecchio così l'autista un uomo ben vestito aveva abbassato il finestrino dicendole beh ti piace la mia macchina dai ti do un passaggio Enietra inizialmente rifiutò d'altronde era vicinissima a casa della sua amica ma l'uomo insisteva ecco qual è il problema di voi donne nere non accettate i complimenti nei favori Enietra a questo punto cambiò idea e accettò il passaggio dall'uomo che si dimostrò al principio calmo e tranquillo Enietra non si sentì affatto in pericolo fino a quando lui invece di proseguire dritto secondo le sue indicazioni svoltò di colpo si fermò davanti a una casa che a suo diera apparteneva a uno zio entrò per qualche minuto e quando ne uscì il suo umore da giocoso era diventato odioso o almeno così lo descrisse Enietra appena rientrato in macchina chiese alla donna perché mi hai cacciato fuori lei gli risponde che non sapeva di cosa stesse parlando chiaramente l'uomo continuava a brontolare ma Enietra ora pensava solo a una cosa doveva uscire assolutamente da quell'auto provò ad aprire lo sportello ma l'uomo tuoi no apri lo sportello provo a scappare troia e ti sparo l'uomo fece fuoco ed Enietra confusa esclamò cosa? mi hai sparato? la donna dice che non sentiva dolore aveva solo un gran freddo almeno inizialmente ma perdeva sangue e lo pregò di portarlo in ospedale lui la guardò come se fosse impazzita per poi esclamare no non posso farlo non voglio mica essere beccato Enietra Enietra perse i sensi e quando si risvegliò vide l'uomo intento a scattarle delle foto purtroppo Digliapoco svenne di nuovo e una volta che si riprese constatò che stava subendo una violenza intima quando l'uomo rimise in moto l'auto Enietra provò ad aprire la portiera e lui la spinse fuori Enietra rotolò a terra sentiva una voce che le diceva alzati ma era disorientata e non capiva dove si trovasse sollevò la testa e vide un cartello con scritto Denke Revenue per fortuna la sua amica abitava lì vicino così si trascinò finché non arrivò davanti al suo portico poco dopo l'amica sopraggiunse in auto e quando la vide si mise ad urlare Enietra disse mi hanno sparato ti prego chiama il 911 fu condotta in ospedale e riuscì ad avere salva la vita anche Enietra era stata aggredita da una calibro 25 automatica come le altre vittime quando fu dimessa dall'ospedale fornì una descrizione dell'aggressore un maschio nero sulla trentina ben rasato istruito la sua testimonianza segnò un punto di svolta nelle indagini grazie all'identikit fornito da Enietra a South Los Angeles vengono collocati circa 50 agenti per effettuare controlli e posti di blocco nel quartiere si cerca una Ford pinto arancione ma trascorse diverse settimane gli agenti non riescono a rintracciare quell'auto che tra l'altro non passa neanche così inosservata arriviamo quindi al 23 febbraio del 1989 quando uno sceriffo della contea di Los Angeles viene fermato in auto con una passeggiatrice Rick Ross è visibilmente alterato dall'uso di sostanze e la ragazza accanto a lui dichiara che in effetti ne avevano fatto uso Rick Ross però ripete sentite ho solo bevuto lasciatemi stare sono un poliziotto la ragazza nel frattempo dice di aver paura di lui perché ha una pistola nel bagagliaio gli agenti controllano e trovano una 9 mm e arrestano Ross fanno analizzare la pistola i proiettili a quanto pare risultano compatibili con tre omicidi tre donne uccise proprio con una 9 mm o forse no a questo punto le forze dell'ordine decidono di condurre un'indagine indipendente dalla quale emerge che i test balistici eseguiti dal laboratorio criminale della polizia di Los Angeles non erano curati di conseguenza le accuse contro Ross ne cadono certo la vita personale dell'uomo non era priva di problemi del resto era stato arrestato mentre nel suo veicolo c'era una passeggiatrice ma ciò non stava a giustificare l'accusa di un triplice omicidio lo sceriffo del dipartimento della contea di Los Angeles decide di licenziarlo e nonostante Ross fosse stato scagionato tutti i poliziotti si convincono che lui sia davvero l'assassino tanto ricercato è interessante notare che proprio dopo l'aggressione a Enietra nel 1989 gli omicidi si fermano i detective archiviano i fascicoli e passano oltre trascorrono ben 14 anni il serial non miete più vittime e le autorità suppongono che si sia allontanato dalla zona magari si è trasferito ha cambiato casa andiamo dunque di nuovo avanti nel tempo fino al 2004 da tre anni Cliff Shepard è impegnato nelle indagini con l'unità a casi risolti purtroppo sono ancora lontani da risolvere il caso ma alla fine di quell'anno c'è una svolta si rileva una corrispondenza col DNA prelevato su una donna uccisa nel 2002 questo risvolto conferma il sentore di Cliff l'assassino è ancora a piede libero nei paraggi sta continuando a colpire Princess Seyen Bertomio era stata dichiarata scomparsa il 21 dicembre 2001 era in affido ed era scappata di casa il corpo di Princess era stato trovato il 19 marzo 2002 a Englewood in California durante l'autopsia il medico legale stabilì che la ragazza aveva subito una violenza intima tuttavia confrontando questo omicidio con quelli oggetto del caso che stiamo ricostruendo c'era una netta differenza l'assassino aveva scelto di strangolare la vittima a morte piuttosto che spararle con una pistola calibro 25 in ogni caso i detective si rendono conto che il caso di Princess è collegato a un caso di competenza del dipartimento di polizia di Los Angeles ossia quello di Valerie McCorvey il corpo di Valerie viene ritrovato l'11 luglio 2003 a South Los Angeles anche lei morta strangolata inoltre il DNA collega questi delitti ai 7 omicidi di donne che si sono verificati negli anni 80 è chiaro un serial si aggira per South Los Angeles dal 1985 al 2003 nonostante gli incredibili sviluppi la comunità non viene avvertita del pericolo passano altri 4 anni ed è a questo punto che entra in scena una giornalista di cronaca nera che lavora per il settimanale LA Weekly ossia Christine Pelisek frustrata dal caso la donna si reca nell'ufficio del coroner per procurarsi tutti i referti autoptici e li studia per riscontrare eventuali elementi in comune così si imbatte nel caso di Janissa Lavette Peters il corpo di Janissa viene trovato nel quartiere di Gramsci Park a South Central il primo gennaio 2007 un senza tetto sta rovistando in un cassonetto e strappa un sacchetto di plastica da cui fuoriesce una mano durante l'autopsia il medico legale stabilisce che anche lei era stata strangolata e uccisa tramite colpi di arma da fuoco i campioni di DNA raccolti sui suoi resti e dalla scena del crimine permettono di collegare il suo omicidio con quelli precedenti finalmente la polizia capisce che deve agire prontamente il 27 aprile del 2007 quando i risultati del test rivelano che il soggetto ignoto ha colpito di nuovo il capo della polizia William Bretton decide di intensificare le indagini costituendo una task force il detective Dennis Kilcoyne è l'investigatore principale ma la comunità ignora ancora la minacciosa presenza di un serial questo segreto viene rivelato quando Christine Prisek racconta la storia su LA Weekly nel suo articolo attribuisce al colpevole il soprannome The Green Sleeper nel 2008 la task force si mette all'opera dispongono di un DNA collegato a 10 omicidi e a un tentato omicidio hanno un profilo genetico sì ma senza un nome senza un volto l'indiziato come detto non era nella banca dati dei criminali schedati della California quando Christine ricostruisce e diffonde la vicenda l'interesse dei media per il caso The Green Sleeper impenna i media internazionali ne discutono e la maggior parte delle famiglie delle vittime dei residenti locali è sconvolta ma anche arrabbiata con la polizia di Los Angeles che non ha mai informato la comunità del collegamento fra questi efferati omicidi l'assassino inoltre è ancora attivo il detective Dennis Kilcoyne concede un'intervista al canale televisivo MSNBC in cui afferma non sappiamo che sia ma i delitti da lui compiuti stanno aumentando una volta che avremo finito sono abbastanza fiducioso che questo caso supererà qualsiasi altro caso che abbiamo mai visto in città nel febbraio del 2009 le autorità emettono un comunicato stampa con tutte le informazioni in loro possesso compresi gli aggiornamenti sul caso inoltre diffondono anche la telefonata arrivata in centrale il 10 gennaio del 1987 in cui un soggetto anonimo segnalava un cadavere quello di Barbara Bethune Ware purtroppo neanche la diffusione di questa chiamata porta novità alla polizia di Los Angeles nel maggio 2009 le forze dell'ordine affiggono molti manifesti in tutta la città che raffigurano le immagini delle 11 vittime del serial conosciute i cartelloni promettono una ricompensa di 500 mila dollari in cambio di qualsiasi informazione che possa portare all'arresto e alla condanna del colpevole nella storia della giustizia di Los Angeles tale importo rappresenta la ricompensa monetaria più remunerativa offerta per il reperimento di informazioni mirate a individuare un assassino e a disporre la sua condanna dunque nell'ambito di un procedimento penale il detective Cliff Shepard è in cerca di prove che conducano all'identificazione del colpevole ma ancora senza risvolti positivi il detective Dennis Kilcoyne intanto pensa sia necessario esplorare altre strade di recente ha appreso che esiste una nuova tecnica basata sul DNA familiare la quale ha riscosso successo nel Regno Unito negli Stati Uniti non è ancora mai stata usata il presupposto è questo la trasmissione dei marcatori genetici segue le leggi della trasmissione ereditaria dunque padre figlio e nipote avranno tutti lo stesso DNA maschile in sostanza i detective cercano un congiunto maschio dell'assassino nella banca dati dei criminali schedati ma quest'ultima non è concepita per trovare i congiunti la ricerca dei parenti implica una violazione della privacy e a Dennis Kilcoyne serve un'autorizzazione per poter procedere si rega così dal procuratore distrettuale e riesce a convincerlo che si tratta di un tentativo necessario quello di catturare il serial che terrorizza South Los Angeles dagli anni 80 da fin troppo tempo infatti i detective non riescono a venire a capo del caso non hanno piste valide da seguire ma il 30 giugno 2010 arrivano i risultati del test del DNA familiare e finalmente c'è una corrispondenza il soggetto identificato è il 28enne Christopher Franklin che era stato arrestato per possesso illegale di armi da fuoco i detective sono riusciti a risalire al ramo familiare dell'omicida ma Christopher Franklin è troppo giovane per essere il colpevole nonostante il suo profilo genetico sia del tutto compatibile con quello del DNA trovato sulle vittime ma il padre di Christopher Lonnie Franklin si aggiudica l'attenzione della polizia Christopher spiega che il rapporto con suo padre è sempre stato molto complicato la vita con lui era davvero imprevedibile faceva cose assurde oltre che illegali come svegliarla alle 3 di notte per occuparsi di auto rubate anche se il giorno dopo c'era la scuola era un uomo violento gli metteva le mani addosso e non si limitava a qualche scolacciata Christopher quando era più giovane ne aveva viste di cose che non si addicevano a un ragazzino della sua età ad esempio a suo padre piacevano quei film destinati solo a un pubblico adulto per intenderci era un pervertito i detective che finalmente ora hanno una pista da seguire procedono studiando il passato di Lonnie Franklin Dennis Kilcoyne chiede alla sua task force di informarlo sui precedenti dell'indagato e sul luogo in cui abita scoprono così che era già stato arrestato per diversi furti di automobili ma il suo DNA non era mai stato prelevato perché all'epoca la legge consentiva il prelievo e l'inserimento dei dati del DNA nel database solo nei casi di reati intimi inoltre appurano che Lonnie abita proprio nell'area di South Los Angeles a poca distanza dai luoghi in cui i corpi delle vittime degli anni 80 erano stati rinvenuti nel giro di un'ora e mezza gli mettono alle calcagna alcuni agenti di sorveglianza ancora non possono arrestarlo perché hanno una corrispondenza genetica ma non delle prove contro di lui non possono entrare nella sua proprietà e infilargli un tampone in bocca insomma il tribunale avrebbe richiesto delle prove valide gli agenti però lo seguono in attesa che si sbarazzi di qualcosa da cui prelevare il suo DNA una cannuccia una sigaretta una lattina o una bottiglia di birra arriviamo a lunedì 5 luglio 2010 quando Lonnie esce e va a prendere una sua amica poi i due si recano nella contea di Orange sempre in California dove entrano in una pizzeria prontamente uno degli agenti di sorveglianza lo segue e si identifica con il titolare della pizzeria gli spiega che sta sorvegliando un uomo e gli chiede di potersi spacciare per un dipendente del suo locale il titolare gli dà il permesso così Lonnie nel relazionarsi con la gente non sospetta di nulla il detective in questo modo riesce a raccogliere diverse prove il bicchiere da cui aveva bevuto Lonnie la forchetta con cui aveva mangiato la pizza e anche degli avanzi di cibo Dennis Kilcoyne li porta personalmente in laboratorio la sera stessa ora deve attendere due giorni per avere risultati durante quelle 48 ore Lonnie continua a essere tenuto sotto sorveglianza il 7 luglio del 2010 il detective entra in ufficio verso le 3 di notte perché non riesce a chiudere occhio verso le 7 il capo del laboratorio gli manda un sms e scrive quattro semplici parole è il tuo uomo il detective quasi non ci crede vorrebbe urlare dalla gioia finalmente dopo 25 anni hanno trovato l'assassino tutti i membri della task force sono chiamati a rapporto adesso hanno il via libera per procedere Lonnie sta annaffiando il suo prato quando gli si avvicinano numerosi furgoni da cui escono degli uomini armati di AK-47 con l'elmetto in testa fanno irruzione in casa e lo arrestano poi iniziano a bloccare tutte le strade i vicini di casa di Lonnie vengono ascoltati e tutti rimangono sbigottiti commentano ma come sembrava un ragazzo così simpatico oppure è un ragazzo molto buono io non ci credo o ancora sono qui dal 1976 lo conosco da allora sono completamente scioccato quasi tutti nel quartiere conoscevano Lonnie come il tutto fare di riferimento la maggior parte di loro lo chiamava quando aveva un problema con la propria auto era pronto a dare una mano a chiunque specialmente alle donne spesso ha fatto anche il babysitter per qualche sua vicina aiutava gli anziani nello sbrigare le commissioni oppure gli aiutava ad attraversare la strada il capo della polizia Charlie Beck a questo punto rilascia una dichiarazione non abbiamo mai rinunciato a questa indagine nemmeno per un minuto i nostri investigatori hanno lavorato incessantemente seguendo ogni pista possibile il loro duro lavoro ha portato all'odierna cattura di questo feroce assassino spero che il duro lavoro di questi uomini e di queste donne porterà un po' di pace alle famiglie che hanno tragicamente perso i propri cari negli ultimi 25 anni al termine della perquisizione nella casa di Lonnie vengono raccolte più di mille foto e centinaia di ore di riprese video dopo aver esaminato le immagini e i filmati gli investigatori scoprono che i soggetti selezionati sono donne nere che rientrano in un'ampia fascia di età spesso raffigurate o riprese senza veli gli investigatori ritengono che Lonnie abbia scattato le foto che risalgono ad almeno 30 anni prima e che mostrano soggetti sia coscienti che incoscienti tra le foto è presente quella che Lonnie scattò a Enietra svenuta nell'abitacolo di un'auto Enietra aveva raccontato l'episodio si era ripresa proprio mentre lui era intento a scattarle delle fotografie per i detective questa è un'ennesima prova chiaramente ma sono state repertate altre 180 fotografie di donne ancora non identificate saranno ancora vive oppure anche loro sono state uccise dal Grimsleeper dopo svariate settimane da identificare restano le donne ritratte in circa 30 fotografie alcune sono state accertate come vittime i detective sono convinti che ve ne siano ancora altre ma non hanno abbastanza prove per accusare Lonnie Franklin di ogni singolo omicidio quasi tutte le donne erano state uccise tramite una pistola automatica calibro 25 e in effetti in casa di Lonnie Franklin i detective trovano due pistole automatiche di quel modello una delle due analizzate dalla balistica viene collegata all'omicidio di Janissa Lavette Peters quando viene arrestato Lonnie non reagisce non chiede spiegazioni non protesta lo conducono nella sala interrogatoria un detective gli dice avrai molte domande per noi ma noi ne abbiamo anche un paio da fare a te stiamo indagando su un omicidio avvenuto nel 2007 ok ora ti mostro la foto di una ragazza vediamo se la riconosci il detective apre un fascicolo e mette sotto il naso di Lonnie la foto di una donna al che lui risponde no non la conosco conosco tanta gente ma lei no è a questo punto che il detective Cliff Shepard ripensa a quella strana segnalazione del 10 gennaio 1987 un soggetto anonimo aveva chiamato la polizia per segnalare la scoperta del corpo senza vita di Barbara Bethunware quell'uomo alla fine della chiamata aveva detto voglio rimanere anonimo conosco tanta gente ebbene sì Shepard aveva avuto una giustissima intuizione Lonnie Franklin era l'autore di quella telefonata il detective insiste dicendogli risulta che il tuo DNA è collegato alla morte di questa donna Lonnie risponde calmo e coinciso ok il detective ribatte ok è tutto ciò che ha da dire Lonnie risponde no beh se voi dite così io che posso rispondervi il detective insiste se non sei stato tu come ce lo spieghi tutto questo Lonnie risponde non saprei quell'uomo sembra non possedere un'anima al suo posto c'è il vuoto i detective non demordono e una dopo l'altra mostrano a Lonnie tutte le foto delle ragazze ritrovate senza vita su cui è stato individuato il suo DNA Lonnie asserisce sempre la stessa cosa non conosco questa donna il detective gliene mostra due poi tre poi quattro poi cinque foto e commenta cominciano a essere tante le coincidenze non ti pare Lonnie risponde beh sì ha ragione poi gli mostra la foto di Enietra l'unica sopravvissuta e Lonnie riesce a dire solo wow è robusta il detective gli chiede come che hai detto e Lonnie ripete beh è grassa questo rende l'idea dello stato d'animo con cui questo uomo ha condotto il suo primo interrogatorio con la polizia facendo body shaming tra l'altro il detective a questo punto gli chiede sai cos'è il DNA e Lonnie risponde sì si può estrarre dalla saliva dal sangue e da tutti i liquidi corporei e il detective annuisce e dice è come un'impronta digitale quindi sai come funziona anche meglio di me Lonnie ribatte possibile che lo sappia meglio di lei ma io non ho mai visto queste donne il detective ovviamente sta perdendo la pazienza e gli dice non saresti qui se non fossimo del tutto certi di ciò che hai fatto a queste donne dammi una spiegazione Lonnie insiste scusi ma come posso spiegare una cosa che non ho fatto il detective ribatte quindi sarebbero tutte sfortunate coincidenze Lonnie dice no sto solo dicendo che io non conosco queste persone il detective però non molla le foto delle vittime ormai sono tutte posizionate sul tavolo nella sala interrogatori quindi inveisce cosa in nome di Dio ha portato a questo poi aggiunge questo uomo quando non sta con moglie e figli di notte va in giro per strada le famiglie di queste donne vogliono la verità come tu vorresti sapere Lonnie blocca il detective dicendo indispettito io non vado in giro di notte poi si tranquillizza abbassa il tono di voce e aggiunge non ho ammazzato nessuno non so di cosa stiate parlando nella sala interrogatori detective ce la stanno mettendo davvero tutta provano a braccarlo a trarlo in inganno ma non riescono a farlo cedere Lonnie non dice assolutamente nulla nonostante questo possono comunque portarlo a processo Lonnie Franklin viene accusato di 10 omicidi e di un tentato omicidio anche se si dichiara innocente si verificano molti ritardi prima di giungere al processo infine il 16 febbraio 2016 vengono ascoltate le dichiarazioni di apertura per i successivi due mesi e mezzo la giuria ascolta la testimonianza di numerose persone sia l'accusa sia la difesa inseriscono nuovi elementi come prove entrambe le parti presentano le loro argomentazioni conclusive il 2 maggio tuttavia a causa della gravità dei crimini commessi da Franklin e dalla complessità del caso il giudice impiega due giorni per dare istruzioni alla giuria la fase di deliberazione prosegue fino al 4 maggio 2016 i giurati consegnano la loro decisione un giorno e mezzo dopo Franklin rimane in piedi in aula mentre viene letto ad alta voce il verdetto colpevole di tutti e dieci i capi di imputazione di omicidio e anche del tentato omicidio la fase della condanna inerente al suo processo inizia il 12 maggio 2016 l'accusa è autorizzata a presentare ulteriori prove le quali suggerirebbero che Lonnie Franklin abbia ucciso altre 4 persone questa prova viene inclusa soltanto a questo punto per due motivi uno non c'erano prove sufficienti per dimostrare la colpevolezza di Lonnie Franklin oltre ogni ragionevole dubbio se l'accusa avesse tentato di presentarla durante il processo originale la prova avrebbe potuto condurre a un processo giudiziario o alla soluzione in secondo luogo i risultati dei test del DNA obalistici non erano stati completati prima dell'atto d'accusa del gran giurì pertanto accusare Franklin una seconda volta di più omicidi avrebbe prolungato ancora di più il procedimento per le due settimane successive la giuria ascolta ulteriore dichiarazione di impatto e raccoglie nuove prove da considerare in vista della deliberazione della sentenza il 6 giugno la giuria della contea di Los Angeles raccomanda al tribunale di emettere la condanna di pena di morte per Lonnie Franklin infine il 10 agosto 2016 il giudice della corte superiore della California legge la sentenza a Lonnie Franklin pronuncia il nome di ogni vittima dichiarando che Franklin ha ricevuto la pena di morte per ogni omicidio una volta conosciuto il suo destino il condannato viene trasferito nel carcere di San Quentin tuttavia la vita di Lonnie Franklin non viene stroncata dalla sentenza il 28 marzo del 2020 l'uomo muore in carcere per cause naturali prima di concludere questo video vorrei fare qualche riflessione per poi leggere le vostre opinioni nei commenti sapete che lo faccio sempre ci tengo molto allora sono consapevole che alcune aree geografiche hanno risorse investigative e giudiziarie limitate so che la maggior parte di queste vengono allocate nelle città in cui c'è benessere economico ma credo che il dipartimento di polizia di Los Angeles sia stato negligente riguardo a questo caso adesso vi spiego perché faccio questa affermazione negli anni 80 quando era evidente il pericolo che la comunità di South Central stava correndo le autorità competenti scelgono di non informare il pubblico della potenziale minaccia che si trattasse di uno di diversi assassini la minaccia era reale i cittadini avevano il diritto di sapere mi viene in mente il caso di Charles Albright il cui contesto è Dallas una città del Texas che ha minacciato la popolazione dal 1990 al 1991 della sua storia vi ho già parlato in un video precedente Albright prese di mira le prostitute locali tuttavia dopo il secondo omicidio le autorità hanno avvertito le donne del potenziale pericolo nel caso di Lonnie Franklin che risale agli anni 80 nonostante i diversi omicidi consumati a South Central alcuni non attribuiti a Franklin trascorrono molti anni prima che i detective agiscano in maniera concreta e perseverante eppure uno o più soggetti residenti a South Central erano stati presi di mira torturati e uccisi desta ancora maggiore sconcerto che dopo il periodo di inattività di Franklin durato circa 13-14 anni le autorità sono rimaste in silenzio anche quando l'uomo ha ripreso ad agire e ne erano consapevoli le donne vittime di Franklin non appartenevano a un ceto sociale agiato o illustre erano passeggiatrici ma erano innanzitutto persone persone come le altre queste donne uccise in modo barbaro erano la sorella la figlia la madre o l'amica di qualcuno che teneva a loro le loro vite non valevano meno di quelle di chi vive in una zona più ricca negli anni 80 mentre Franklin uccideva attivamente alcune passeggiatrici nel centro-sud di Los Angeles Richard Ramirez consumava i suoi omicidi nell'area di San Francisco Franklin venne catturato soltanto nel 2010 mentre Ramirez venne arrestato il 31 agosto 1985 quest'ultimo selezionava le sue vittime nelle zone più ricche e la sua cattura impegnò intensamente la polizia ma così non è stato nel caso di Lonnie Franklin visti i risultati concludo con alcune domande pensate che Franklin sia stato davvero inattivo per circa 13-14 anni o ipotizzate che abbia ucciso altre vittime di cui non siamo ancora a conoscenza ritenete che l'analisi del DNA familiare debba diventare una procedura operativa standard per le forze dell'ordine cosa ne pensate del modo in cui le autorità hanno gestito questo caso non vedo l'ora di leggere le vostre opinioni detto questo io ho finito di parlare in questo video spero ovviamente che questo video possa essere stato di vostro interesse come già vi ho detto ci becchiamo nei commenti sono curiosissima di sapere le vostre opinioni io nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video vi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetemi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti 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 ciao a tutti